Sono sempre alla ricerca dell'equilibrio sia mentale che fisico, infatti quando mi alzo faccio subito una corsa e dopo pratico meditazione. Sono un filmmaker e amo tantissimo viaggiare e raccontare le mie viaggi e le mie avventure tramite video. E poi c'è Kubrick, il mio gatto pazzo e mi piace molto raccontarlo perché fa super ridere. Sono spesso in viaggio per il mondo, come curo la mia barba con Panasonic iShaper GY60. Regola, definisce, è come avere il barbiere sempre con me.